sono le 17 e 58 del 26 aprile 2023 sono appena sceso dalla grotta cannone qui 200 metri per scendere impiegato 4 minuti mentre per salire se non hanno circa 7 minuti da parte mia dagli altri non lo so comunque adesso torno giù ci troviamo alla serva dei prati comunque le massi qui a circa 300 metri c'è l'ex conventa le prati cappuccini adesso con la mia monte bike vede di percorrere questo bisogna stare a pelle ho fatto un gratto e quindi non salire e vediamo dove arriva qua c'è un tratto abbastanza ripido forse lo supero se ecco qui il pezzo più ripido ecco qui ci fermiamo un attimo qui e mi sono fermato qui al limite estremo dell'orto ecco qua diciamo orta ma questi saranno i carretteri di terreno per l'ecosconventa pratico puccino comunque le marze